Tahar Lamri Buonasera, mi chiamo Tahar Lamri e vorrei parlarvi di paura, di xenofobia e di ostilità verso il diverso. La paura genera xenofobia e ostilità verso il diverso e da questa sentimenti e passioni che corrompono profondamente la società facendole perdere senso civico e umanità. È contrario ai fatti e alla ragione pensare che il rifiuto dei diversi sia compatibile con l'amicizia fra i cittadini. Quando la paura si scatena, quando si diffonde, non sappiamo fin dove possa arrivare. Il gruppo sociale, percepito come pericoloso, non è immutabile. varia a seconda delle circostanze e può benissimo ricadere su un altro gruppo sociale questa paura, altrettanto fragile o privo di mezzi per difendersi. amicizia e ostilità non possono condividere lo stesso spazio. Così l'ostilità finisce per invadere l'intero spazio sociale per estensioni successive. Ma non tutti hanno paura allo stesso modo. Chi ha affrontato le onde del mare mettendo a rischio la propria vita può aver conosciuto una paura che possiamo definire reale, soggettiva, individuale. Chi rifiuta l'altro invece conosce una paura collettiva, dove paradossalmente viene rassicurato da un sentire collettivo, cioè si sente in qualche modo protetto solo da chi ha paura come lui. Buonasera, mi chiamo Maria Rosaria Mancini e lavoro in prefettura. Di recente nella mia esperienza lavorativa mi sono scontrata con la paura in diverse occasioni, in particolare in due circostanze che hanno avuto un impatto significativo. quando siamo stati in presenza di grandi, recenti grandi flussi migratori, con numeri che non c'erano mai stati in passato. Sì, c'erano stati, però erano stati più sporiatici, più occasionali. E poi sono diventati, soprattutto dal 2011, sono diventati una costante. Poi l'altra occasione in cui ho toccato con mano la paura è stata la pandemia di Covid. Queste due realtà le ho vissute, ho cercato di viverle da diversi punti di vista. Dal punto di vista di chi arrivava in Italia, degli immigrati che arrivavano in Italia, di chi in Italia c'era già e di tutti noi che abbiamo convissuto con la pandemia. La paura è il filo rosso che le ha unite tutte. La paura di chi faceva un viaggio dall'Africa o dal Pakistan per arrivare in un luogo che non conosceva. La paura di chi abitava già qui e si vedeva invaso. La paura di chi aveva paura, vedeva intorno a sé una malattia, viveva una malattia sconosciuta. E la paura di tutti noi di perdere le nostre abitudini. Da Lampedusa non si entra. Da Calais non si esce. Da Ventimiglia non si passa. Da Belgrado a Budapest si viaggia in vagoni piombati. A Ceuta e Meliglia è un clave spagnole in terra d'Africa. Come poi al confine tra Bulgaria e Turchia o al confine tra Ungheria e Serbia si alzano reticolati e muri. Ormai è stabilito che le linee di confine sono i corpi dei migranti. Il mio confine arriva fino alla linea in cui ho stabilito che sta partendo un migrante per arrivare da me. L'immigrato non aveva paura. Aveva fiducia in una vita nuova che lo aspettava in Italia, in Europa, anche se non le conosceva. Chi era qui invece aveva paura perché non conosceva l'immigrato. Lo percepiva diverso da lui e gli faceva paura. I cittadini avevano paura della nuova malattia perché non la conoscevano. Aveva stravolto la vita di tutti, aveva distrutto i punti di riferimento che erano rassicuranti, che l'avevano rassicurato per tanto tempo. Poi la vita è ripresa, la paura è diminuita. Qualcuno ha trasformato la paura in rabbia e l'ha riversata su chi era colpevole di avere distrutto questi punti di riferimento. È vero, è vero che l'immigrato arriva pieno di fiducia. Ma è anche vero che negli ultimi anni si è diffusa una paura nuova che ha investito i figli degli immigrati. Ragazzi nati e cresciuti in Italia. Ragazzi che si sentono italiani a tutti gli effetti, ma che si sono sentiti all'improvviso esclusi per via del colore della pelle o dell'origine dei genitori. Alcuni anni fa intervistai Musa Njai, nato e cresciuto in Italia, rientrato in Senegal, poi dopo qualche anno tornato in Italia per una tournée teatrale. e Musa mi disse «Mi capita spesso in Senegal di pensare alla mia infanzia vissuta a Ravenna. Ci penso alla luce del senso di paura che mi invade ora nelle strade d'Italia e mi dico loro credono che io faccia paura, ma sono loro a fare paura a me e temo che la mia infanzia venga divorata inghiottita da questa paura, che questa infanzia diventi per me una terra straniera». Il mondo attuale è complesso, può fare paura. La paura genera incertezza, genera rabbia, però è necessario superarle con la comprensione. Il prefetto, il questore, gli uomini delle istituzioni vagliano le informazioni scientifiche, devono costruire procedure che debbano aiutare la cittadinanza, la popolazione e contribuirle e rassicurarle. L'uomo delle istituzioni, con l'interpretazione della legge e la creazione di procedure, aiuta ad attivare la razionalità di tutta la collettività. Invece l'uomo di cultura lo può fare toccando la sensibilità delle persone, utilizzando anche forme d'arte. Comunicando in modo adeguato si attiva la fiducia e la comprensione e si può disattivare la rabbia. Negli anni novanta avevo una vicina, una signora anziana, una signora di Ravenna, che nelle giornate belle, nelle giornate di bel tempo, stava lì, si sedeva lì nel cortile e leggeva i rotocalchi. Questa signora non aveva mai visto in vita sua un nero. L'aveva visto, sì, in televisione, nei rotocalchi che leggeva, ma mai così di persona. Un giorno mi viene a trovare il mio amico Modu Gay. Allora lei lo guarda, non dice niente. Poi la sera dice a sua figlia, «Incu hai ovesto negger». Ma lei era negger, ma così nero che aveva persino le pieghe del collo nere. E lei, dicendo così, è come se fosse riassunto di decine di trattati di antropologia. Perché lei era un'abbracciante, abituata all'abbronzatura dei contadini, e i contadini, ovviamente, si abbronzavano il collo, ma le pieghe del collo rimanevano rigorosamente bianche. E per la prima volta vede arrivare un nero che aveva persino queste pieghe nere. E quindi le pieghe sono l'intimità. E lei dice, «Oggi ho visto il diverso, lo riconosco, e ho le parole per dirlo, partendo dalla mia vita». Un altro aneddoto che mi viene in mente è che due giorni dopo il mio arrivo in Italia, a Ravenna, nell'aprile del 1987, un sacco di tempo fa, ho preso l'autobus per andare a Punta Marina a salutare il mare. È una mia abitudine, non so per quale motivo, ogni volta che vado in una città cerco un corso d'acqua, un fiume, il mare, un lago, e vado a salutarlo. E al mio arrivo, cioè sono andato, ho salutato il mare, e poi tornando, sono tornato alla fermata dell'autobus e lì è arrivato un signore, anche lui, per aspettare l'autobus, e mi ha detto qualcosa. Io non capivo l'italiano, quindi l'ho guardato come chi non capisce, quello che ci guarda così e negli occhi magari c'era il vuoto, ma comunque l'ho guardato come uno che non capisce le parole di questo signore. e il signore si avvicina verso di me, prende la mia mano così, alza la manica della giacca, guarda il mio orologio. Mi aveva chiesto l'ora. E quindi, per nulla intimorito del mio silenzio, del mio essere diverso, mi tocca e mi dà il più bel benvenuto che si possa dare a uno straniero in terra straniera. Per concludere, quale potrebbe essere l'atteggiamento del cittadino? Il cittadino dovrebbe poter ascoltare e fidarsi degli elementi della conoscenza che gli vengono dati, attivando la sua coscienza critica e utilizzando tutti gli strumenti per approfondire ciò che non conosce. Spesso la conoscenza è un atto di fiducia, coraggioso, serio. Io scelgo di fidarmi, di ascoltare, di valutare tanti elementi che potrebbero rimanere sconosciuti, però in un processo a due vie. Io mi fido di te, tu però mi devi comprendere. Grazie. Grazie. Grazie.